Quali sono i tempi di attesa per una visita e come è stata smaltita, se è stata smaltita la precedente lista inerente alla vecchia TAC? È stato predisposto un piano di recupero ovviamente condiviso con l'azienda, ha degli esami TAC prenotati a Sant'Omero e quindi ho previsto un turno giornaliero grazie anche alla disponibilità del direttore radiologo dell'ospedale di Teramo che ci ha messo a disposizione la TAC di Teramo e quindi grazie a questa collaborazione è stato possibile recuperare tutti gli esami prenotati a Sant'Omero a Teramo. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione di tutto il personale qui della radiologia di Sant'Omero, quindi ho inviato un medico e un tecnico ogni giorno a Teramo per smaltire, per recuperare gli esami prenotati. Questo ovviamente ha comportato un grande gradimento da parte dell'utenza. La TAC quindi a tutti gli effetti oggi è funzionante e non ci sono lunghe liste di attesa? La TAC è perfettamente funzionante, confermo dal giorno 27 marzo, quindi dall'altro ieri, e le liste d'attesa, appunto come dicevo prima, grazie alla maggior velocità della nuova apparecchiatura saranno sicuramente controllate più di prima. Quante visite sono state effettuate in questi due giorni? Allora, normalmente abbiamo eseguito almeno 15 esami nel turno 8-14 e 5 esami nel turno 14-20, questo anche per cercare di smaltire tutte le prenotazioni che ancora ci sono. Grazie.